Grazie a tutti. E per quanto ne so, nessuno è mai morto per questo. E poi, per esempio, se la polizia doveva sapere chi era stato a fare una telefonata, beh, poteva sempre rintracciarla. E chi sono io, la polizia? Questa continua ossessione del bisogno di sapere in ogni momento chi ti chiama mi dà la nausea, ecco. Rispondi al telefono e scopri chi è. Beh, allora lo sai. È una cosa... Quello che voglio dire è che se un uomo non mi chiama io vorrei riservarmi il diritto di chiamarlo ogni quarto d'ora per sapere se risponde. E lo so, se lui guarda e vede sempre il mio numero penserà che sono una psicopatica. Cosa che non sono. È evidente.